Si chiama Oliver Paga a vent'anni di età e avrebbe fatto fuori Mohamed Istakar, lo avrebbe pugnato a morte a Brex Farm Lane, ci troviamo in Regneto, era il 29 novembre passato e pensate che la vicenda ha creato molta indignazione pubblica, perché questo ragazzo avrebbe deciso di uccidere a coltellate questo uomo per fare colpo su di un'amica, per dimostrare quanto era un uomo, quanto era coraggioso e anche per dimostrare che era capace di rapinare un taxi. L'uomo ovviamente non ha avuto una rapida febbrice, perché vi ricordo che questo ragazzo di vent'anni è stato condannato a ben 27 anni di reclusione in carcere, quindi si dovrà fare 27 anni in prigione. Giusto o no, questa è la pena che il giudice ha deciso, ormai avrebbe deciso di infliggere al vent'anni in questione, ripeto Oliver Paga, che dirsi voglia. Vi ringrazio in prima di rispondere la visione, in seconda di rispondere l'ascolto, il video termina, qua ormai non c'è più Mohamed, posso dire soltanto Mohamed Istakar. Riposi in pace, amendo.